Salve a tutti! Oggi inizierò un nuovo World True di The Walking Dead, la seconda stagione Sì, seconda stagione, ma che sto dicendo? Volevo dire il secondo episodio Che è disponibile finalmente per PlayStation 3, con vari ritardi che ci sono stati Ma andiamo avanti e connettiamoci per giocare Il gioco è disponibile per PC, Mac, PlayStation 3 finalmente e Xbox Mi pare anche pipato, non mi ricordo, va bene, comunque Andiamo subito a playare il secondo episodio E l'ho finito questo, che dobbiamo fare? Vai! Stare for the help! Che inglese maccheronico Intanto mi faccio un goccetto di Heineken Pubblicità occulta Che fresco Che fai che fai Che fai Ma ci fanno rivedere quello che è successo nel primo episodio. Questo è morto. Ok Carly, ti metterai con Doug. Ti ho fatto, Bob. Sto grondando, va troppo caldo, maledizione. Damn, you're fair. Oh my god. And I don't give a shit about what happens to you. Ma se non vi ricordate le cose andate a vedere i miei walkthrough precedenti. Ancora che è caldo. Ecco fatto, finalmente. Telltale is the game. Oh, che fai? Degli una accettata. Degli una accettata. Beh, non essere umano. E questo che minchia è? Degli una accettata. Ah, stanno a mangiare un coniglio. Mmm, appetitoso. No kidding. No kidding. Questa albera è un po' quadrata, ma va bene. Ci sono gli alberi quadrati. Siamo tutti all'interno. Scusate un po' di slack. Sì, sei vero. Vorrei sapere per sicuro quanto c'è di mangiare. Oddio, non ho letto che ha detto. Maledizione. Che è da Lily. Si dovrà chiedere Lily. Si è la persona che tratta le rassi. O non lo tratta, se chiedi Kenny. Si è solo preoccupato di averlo con il suo figlio. Non mi preoccupare anche di Clementine. Pensi che Kenny ha più di più di più che ci siamo qui? Sicuramente spero. Sì, tra l'acqua di freddo e Kenny e Lily stanno sempre combattendo, le cose stanno molto tanti a parte del motore. Sì, Kenny ha parlato di prendere il fucile, se si può prendere l'arrivo. Ma perché tu c'è il fucile e io? Maledizione. Ha una figlia e un figlio per guardare. E sono più sicuro in un grande gruppo. Venendo sull'uomo sarà tutti morti. Non lo scordi. 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 Che problema c'è? Non ho idea. Beh, no. Dove sono gli zumbi? Che cavolo. Solo corvi neri. Eccoli. Ma che sei scemo? Non puoi sparare un corvo. No. Non sparare. Hai fame? Che fa? Ammazziti i corvi. Ma che schifoso che sei. Andamolo a salvare. Andamolo a salvare. Andamolo a salvare Kenny. Ehm. Ehm. Hanamolo a salvare. I bruti bastardi. Ehm. 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 il gigante poca adesso è un bel cibo per gli zumbi lascia l'olienta il terremoto aprile vabbè fammi prova dai carichetta oltre a te carichiamo per te pareva che io volo su un bs Amputagli la gamba C'è la città Vai No no Non piti la gamba Spaccagliela Basta Amputiamo tutto Stai zitto Spaccagliela Sì vai Che male Vai ancora ancora Questa facciamo lì Lasciamo un po' di cibo per gli zombie Ai dio Mi sa che è morto Oh è libero Giappalo 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 Dietro di te Ma che cazzo sta fa' questo Che fice Crepa Devi crepare Sì tu lo meriti Stanno i zombie Stanno la passeggi tranquillamente In giro The Walking Dead Eh sì Inizia così il secondo episodio La bambina autistica con il pallone Che stanno aspettando Quando ti ritorna Non mi ricordo il protagonista Come si chiama Ecco fatto Dai sparagli L'ansia Sparar pallone Sparar pallone Che faccia partì Mario hanno tutti i zoom Lì 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 Che caudere Non c'è nessuno Solo noi C'è nessuno Ma che non è una Le non le Non abbiamo parlato Non abbiamo avuto Con queste persone Poi potranno essere Aiuto Lì Sono persone Poi Intentare Ci sono persone C'è nessuno Sto cucchiaini, lo cavolo è comparso. Manca una, manca dall'altra. C'è quella che ha la camicetta bianca. Ah no, è calda, c'è la ciacchetta. Ma possiamo fare le nostre decisioni, questo non è il vostro diritto personal. Oh come on, stai diventando drammatico. Tutto sempre diventa una struttura di potenza tra voi, non sarò parte di questo. Hey, non ho chiesto di guidare questo gruppo. Tutti erano felici di avermi distribuire la città quando c'è sufficiente per andare, ma ora che si è fuori, inoltre sono un uomo. E non importa chi si tratta? La maggioranza sono qui ora. Penso che dobbiamo decidere cosa succede next. No, Lee, importa. Un'altra persona non può essere in charge di tutto. Infatti, sono neutrale. Ma più o più tardi, dovrai decidere chi è l'altra. Tu sei zitto, che mi ricordo nell'episodio presente, mi stai per far uccidere. Padre, per favore. Perché non puoi aiutare Mark con la città? Tu pensi che questo è facile per me? Tutti stanno iniziando a odiare perché sono la persona che rassina la città. Ma nessuno altro vuole. E sai cosa? Non lo faccio oggi. 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 Stissi oggi o comunque questo personaggio. Non so. Ora che faccio? Questa è morta. Ah, ha muoio d'orcipa. Ti serve qualcosa? Ok, vai. Vabbè, andiamo a cercare... Puoi fare qualcosa? Oh, prendi a carci il pallone. Ehi! Che brutto! Ehi! Va bene, allora torniamo indietro da tutta quest'altra gente. Certamente. Certamente. Che cosa hai perso? Mmm. Soprattutto, se lo trovo, ti farò sapere. Grazie. Ok, Clem. Ho bisogno di prendere alcune cose. Perchè non tornare a giocare con Duck per un tempo. Ok. Qua sopra c'è qualcosa. Niente. Andiamo a parlare con Frank Zapp. Anzi, gli diamo un po' di cibo, va. Dagli... Mmm. Lo vedo tipo da... Mmm. Credo che col formaggio o con la mela. Mmm. Jerky che roba è? Stiamo agli un pezzo dei jerky, va che manco so che. Vabbè, allora se rompi palle. Ah, è vero, Glenn se n'è andato. Il giapponese che sta nella sede televisiva. Ha preso la macchinina e si è andata a lui firma. Pum 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 pum. Vai, ok. Ci parlo dopo. Prima parliamo con quest'altra. Oh, Curly. Che gli diamo la mela. Lei la vedo tipo da mela. Taglianai. Buon pum pum. Buon pum pum. Oh, ma nessuno vuole mangiare. Ma porco dici. Ah, parlo con questo. eh. Sono sicuro c'ha fame. Sì, sei tipo da cracker e formaggio. Sì. 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 È stancazzosa. Sì. È stancazzosa. È stancazzosa. Oh che minchia faccio Vediamo un po' Non ci posso fare niente Ah parlo con il ragazzino magari Diamogli il cibo Te piatti di Gregers Dai dai il pezzo a qualcuna Aspetta che te mori di fame Alla bambina Diamogli il cibo Ok A fine del cibo Moriremo tutti di fame Ah ma c'era quella solo al coso Non l'avevo visto sopra il camper Campera Non ho una scuola Non ho una scuola Stai contento? Bravo bravo Oddio ecco fatto Cioè viene a sbranga Spaccagliela in testa Questo è odioso Fa qualcosa Tu sei una cosa a parlare Oh man Yeah Well I don't see you Working on that wall Alla scuola Non ho una scuola Sf 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 Sf